Dal primo aprile si allentano alcune misure dovute all'emergenza sanitaria anche per le celebrazioni in chiesa con i fedeli. Dopo il confronto tra la CEI, la conferenza episcopale italiana e il governo, è stato annullato il protocollo del 7 maggio del 2020 per le funzioni con il popolo. Ma questo non significa un Tana libera tutti, infatti rimangono ancora in vigore alcuni comportamenti da rispettare. Tra queste l'obbligo delle mascherine durante le celebrazioni al chiuso fino al 30 di aprile e l'igienizzazione delle mani all'ingresso delle strutture. Le acquasantiere rimarranno vuote e lo scambio della pace sarà ancora sospeso, speriamo per un breve periodo. Durante la distribuzione dell'eucarestia i paroci dovranno ancora indossare le mascherine e igienizzarsi le mani, mentre le chiese dovranno essere ben arieggiate una volta concluse le funzioni. A cambiare invece sono i distanziamenti, infatti i fedeli potranno sedersi in qualsiasi posto ma senza creare assembramenti e in più potranno riprendere le tradizionali processioni cittadine. Infine, in vista dell'avvicinarsi della settimana santa, la CEI e la diocesi di Fano Fossumbrone e Caglibergola invitano i fedeli a partecipare alle celebrazioni in presenza nelle proprie parrocchie. Sapete, abbiamo cominciato il covid proprio il mercoledì di quaresima di due anni fa e adesso finalmente in questa settimana santa si riaprono degli spazi, dei tempi, quindi rivivremo le celebrazioni della settimana santa che sono anche quindi celebrazioni dove sarà sottolineata la presenza di tutto il popolo di Dio. Questo a cominciare dall'ingresso di Gesù a Gerusalemme, la processione delle palme, domenica 10 aprile. Finalmente riprenderemo i rami di ulivo e finalmente torneremo anche noi a vivere questa gioia di poterci incontrare tra noi. E poi i riti della settimana santa che culmineranno con il triduo pasquale. Ricordo sempre la messa del Vescovo del Crisma con cui si rinnoveranno gli oli giovedì santo mattina, ma anche il venerdì santo con l'adorazione della croce, il sabato santo con il silenzio e la veglia pasquale. Non ci sono obblighi per gli orari, non ci sono spazi che ci dividono, ma c'è questa gioia di ritornare insieme. Penso che quello della relazione, dell'incontro con il risorto debba aiutare anche le comunità a risorgere, a rialzare il capo, a ripartire con speranza. Ecco, forse ci eravamo abituati a stare lontani. I distanziamenti nei banchi a me fanno sempre paura. Dico sempre che nell'Assemblea non si gioca ai quattro cantoni, si sta insieme. Grazie a Dio le nostre chiese dovranno riaprire a questa fraternità. Siamo tutti sulla stessa barca, ci ha detto Papa Francesco durante questo Covid. Anche adesso abbiamo bisogno proprio della fraternità e dell'amicizia per rialzare il capo e per vivere da risorti.